Ballate, tiritere e qualche poesia e questa la composizione di Noi non andremo all'inferno, ultima fatica di Francesco Romanetti che ha aperto la rassegna letteraria 2014 di Archivio Storico, un originalissimo libro in versi dove ci sono innocenti e colpevoli, prostitute e ladri, assassini e padri di famiglia, in un viaggio nello spazio nel tempo che coinvolge l'ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, Le Olgettine, Ugo Chavez e anche Gesù di Nazareth, prefazione di Roberto De Simone e una copertina che mostra un'immagine tratta da una delle pellicole più controverse di Pierpaolo Pasolini. Salò, un film molto controverso tra l'altro, è un'immagine secondo me molto molto evocativa, il ragazzo della copertina si chiama Ezio, era un repubblichino quindi faceva parte di un gruppo di carnefici che nel castello dove si svolge la trama del film contribuiva a compiere una serie di atrocità sulle persone per il genere, dopodiché per aver fatto l'amore con la serva nera, anzi negra, viene punito, viene punito con la morte e prima di essere ucciso lui fa questo gesto, alza il pugno quindi mostrando un'identità, un'appartenenza insospettata. Io ho ritenuto che questa immagine potesse essere in qualche modo rappresentativa di una forma di resistenza anche se estrema a ciò che non si condivide, alle atrocità di oggi in qualche modo che pur esistono anche se non sono quelle raccontate da Pasolini. Grazie.